...decisiva alla regione Campania, con il Movimento 5 Stelle e la nostra candidata presidente Valeria Ciarambino. I cittadini sono stufi di Caldoro e di De Luca. Caldoro e De Luca non sono altro che le facce della stessa medaglia. De Luca è un condannato per abuso di ufficio che è ineleggibile, incandidabile ai sensi della legge Severino. Questi signori vogliono stralongere le leggi con un atto di arrogante all'interno che lo dice che noi abbiamo reattito, abbiamo reattito, signori Napoletano, a dieci giorni, stanno all'elezione, e noi, nei sensi, abbiamo reattito. E così, le faccio a tutti con un'amariamento. Ti sono andupre, le leggi. Non sono capi, l'escatto da chi è il Napoletano. E come questi atti, hanno detto noi. Come se, noi siamo allenati. Ma se hai parlato, l'essere dei compagni che ci ricorda? Ricorda, ma ricorda. Grazie. 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 trasformando la giustizia in uno strumento rapido, efficace e possibile portare a conclusione migliaia e migliaia di procedimenti semplici, liberando risorse finanziarie immesse e particolare i soldi necessari alla Chiesa e nient'altro vorranno evitarsi. Andate a votare? Con il reddito di indaginanza si elimina il voto di scampio, si contrasta la corruzione, si invogliano le banche a derogare i testi che si dà ai fatti e la scopera di una casa, mandati un po' anto. Grazie.